Confidate comunque in un incarico da parte del Capo dello Stato, Bersani ha detto comunque la prima mosso tocca a noi. Sì, ma io ovviamente mi riferisco al fatto che il Presidente dovrà gestire questa crisi così difficile, quindi lo farà con saggezza. Non mi riferivo alle battute politiche del giorno, penso, ha ragione Bersani, ovviamente, essendo che il Partito Democratico è la prima forza del Paese e ha la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati, è evidente che nessuna soluzione può prescindere dal Partito Democratico.